Si è tenuta a sabato 9 aprile l'inaugurazione del nuovo reparto di ematologia dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, una festa alla quale hanno partecipato autorità civili, religiose e militari, cittadini, operatori sanitari e l'AIL che opera a favore dei malati di leucemia e delle loro famiglie rappresentata dalla presidente della sezione di Cuneo Paolo Rubino, Elsa Morra e dalla vice nazionale Maria Luisa Viganò. La collaborazione dell'AIL con il Santa Croce inizia nel 1999 e si concretizza nel tempo in un contributo di oltre 1 milione e 400 mila euro, tradotto in sostegno alla ricerca, tecnologie, sussidi economici alle famiglie in difficoltà e il finanziamento della progettazione e di parte dell'arredo del reparto. E poi le case dell'AIL realizzate tra il 2004 e il 2013 con 14 posti letto e oltre 1.800 pernottamenti, spazi accoglienti per ospitare pazienti e familiari con maggiori difficoltà. Perché la malattia, spiega Elsa Morra, coinvolge tutto il nucleo familiare e alla cura occorre affiancare sostegno psicologico e spesso aiuti economici. Ringrazio la direzione generale per l'apertura che ha sempre dimostrato nei nostri confronti e in particolare il dottor Bedogni con il quale abbiamo vissuto le prime importanti tappe di questo percorso. Benché i tempi dei lavori avviati con lo studio della progettazione intorno al 2004 siano stati abbastanza lunghi, non hanno tolto nulla alla modernità del reparto, costruito su una superficie di 850 metri quadrati, un costo di poco superiore a 1 milione e 800 mila euro. Un sistema di sterilità crescente e strutturale, dice Paola Arneudo, capo dell'ufficio tecnico dell'azienda che ha seguito passo a passo i lavori. Un grazie a tutti dal direttore generale Corrado Bedogni. Le comunità di questa provincia dimostrano ancora una volta l'attenzione verso la cosa pubblica, con interventi concreti e uno slancio solidaristico che dimostra come si possano insieme realizzare grandi sogni. Oggi è una bella giornata, sono convinto ne seguiranno altre. All'evento ha partecipato la famiglia di Paolo Rubino, il vero motore per la nascita dell'AIL in provincia di Cuneo.